è un video un po lunghino ragà ma vi consiglio di rimanere qui fino alla fine per capire come funziona un all you can eat in giappone qua siamo alla tipologia yakiniku che vuol dire carne alla griglia si può solo mangiare all you can eat in questo ristorante e l'abbiamo scelto per pasqua perché vogliamo fare felici bambini è divertente si mangia bene e non si spende tanto il prezzo però spiego verso la fine allora il menù si divide in quattro tipologie diverse da più economico più caro più caro sarebbe quello che ha la wagyu cioè la famosa carne giapponese ma non ha tutta la wagyu tutto il giappone semplicemente quella che viene allevata nella prefettura e man mano che una persona ha accesso a diverse tipologie del menù può ordinare diverse altre cose che non riguardano scuola carne ma diciamo dei condoni o dei petti a per accompagnamento io faccio sempre un po alla coreana con la verdura e la salsa leggermente o piccante o c'è un'altra salsa al miso io adoro e riso alla combinazione ci sta è una è una bomba la piastra la alla fiamma bella di solito alcuni posti hanno un po il fuoco non tanto forte quindi diciamo giocando fatto che ci mette di più a cuocere la carne come invece primo tutto quanto veloce cioè sia il servizio che stile società caeta in uscire usci al nastro tu ordini al tablet e ti arriva tutto quando con automatico quindi cosa vuoi ordinare senza un domani questo vuol dire che se non ti rifà problemi io dico sempre che no lui che niente se ci hanno solo degli stranieri e la vedo molto scura i giapponesi hanno un appetito diverso dal nostro e diciamo che in un locale riesce a mandare una grande scelta no di accesso al menù proprio per fatto che i giapponesi non mangiano tanto quindi diciamo il locale non rischia di andare a rimettere soldi ma perché il momento è giapponese la carne arriva tutta cruda poi man mano uno decide come cuocerla e ci sono vari sassi per accompagnamento questo è ed è raga divertente divertente per i bambini è interessante decidi tu come fare io lo trovo spettacolare quello che andrete a vedere adesso è lingua di maiale una cosa veramente molto buona molto buona rispetto ovviamente non per me l'ordinatore della carne priva di grasso per i bambini il riso poi mi ha fatto cacciocche sfizio pure le patatine perché no alla fine è pasqua pure per l'orno si devono divertire pure loro io adoro era un sacco di tempo che non andavamo neanche nico perché complicato portare due bambini e farli stare seduti cento minuti no trovi perché non hai detto che mangi il bambino mangia da quando si siede a quando si alza quindi è un po complicato riuscirgli però hai detto qualche no proviamo cioè alla fine esso pure il prosciuttone c'è più di un anno è andata molto ma molto bene rispetto a quando ci aspettavamo ecco qua vi donato un'idea di quanti piatti potete scegliere quanti tipologie di carne potete scegliere e in più anche altri contorni altri piatti tutto quello che vedete può essere ordinato più di una volta senza limiti anche i dolci per 100 minuti di ordine si può richiedere quello che si vuole sul tablet in base a quello che poi diciamo il menu scelto il menu nel senso che dà accesso poi a tante di quelle portate e io sono la che raga alla piastra e ovviamente si fa nera quando si fa un po più nera si può richiedere cambio della griglia ed è gratuito il cambio della griglia cioè non si paga un extra questa è un'altra cosa tenete presente tenete presente che i bambini non pagano nessun extra il menu abbiamo compreso in due cioè quindi paghiamo io e mia moglie e totale è in circa se non ricordo ma al 3.004 a testa quindi siamo sui 21 euro fatti 22 euro a testa quindi in due su 44 euro più abbiamo preso le birre che sono venute 7.400 e facciamo circa 8 euro abbiamo speso intorno a 50 euro i bambini non potevano mangiare quello che volevano senza nessun problema cioè noi ordinavamo quello che c'era loro potevano mangiare non sono chiesto nulla nulla di extra per i bambini e questo è un grande ingentivo per chi ha le famiglie perché in fondo il bambino quando può mani realmente mangiare cioè qui non crea una perdita o un accesso al proprietario ed è fatto perché poi ovviamente più adulti vanno meglio è poi tutto il resto che riguarda le extra la cosa ci ha sorpreso c'è dato i gettoni per il caccia caccia che sono quelle le palline e quelle quei regali e viene dato a tutte le famiglie che hanno bambini un modo per non solo hanno mangiato a gratis i miei figli non hanno pagato né coperto né niente ma in più non ricevuto pure un giocattolo io dico che meglio di così non si poteva fare stasera e per una spesa che è intorno ai 50 euro per aver mangiato in due io dico che meglio di così non si poteva fare voi cosa ne dite fatemelo sapere nei commenti